ciao a tutti oggi prepareremo l'irish coffee il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa gli ingredienti sono panna fresca zucchero di canna caffè espresso amaro caldo whisky cannella e zucchero a velo andiamo via alla ricetta iniziamo montando la panna mettiamo all'interno del boccale la farfalla mettiamo lo zucchero a velo versiamo la panna che deve essere ben fredda di frigo chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi senza tempo a velocità 3 e mezzo la panna deve essere semi montata e non ben montata trasferiamola in un contenitore dopo aver lavato il boccale e aver posizionato in frigo momentaneamente la panna già montata versiamo all'interno il caffè lo zucchero di canna e la cannella chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per tre minuti 37 gradi velocità 3 questo punto dal foro del coperchio aggiungiamo il whisky e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 1 il caffè è pronto trasferiamolo in dei bicchieri e completiamolo con la panna irish coffee grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti